Tararatattara, tattattara, perché gesticolo così? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Se siete dei nuovi iscritti o se per caso siete capitati qui sul mio canale per la prima volta, mi presento, mi chiamo Ambra, sono una make-up artist e qui sul mio canale YouTube mi piace parlare, parlare, parlare di make-up, benessere e soprattutto proclamare il self-love. Nel video di oggi ho deciso di lanciare un nuovo format, un format che già esiste, che sta spopolando in America, ovvero make-up artist reagisce a... E insieme nel corso delle settimane, nelle varie puntate, si può dire puntate? Mi sento come se fossi dentro ad una serie tv. Comunque nel corso di vari episodi di questo nuovo format vedremo insieme come si truccano determinati personaggi che possono variare insomma da attori cantanti delle rubriche di Vogue a influencer italiani, stranieri, insomma vedremo insieme un po' di make-up da tutto il mondo. Ci tengo ovviamente a fare un piccolo ma importantissimo disclaimer all'inizio di questo video. Con questa rubrica la mia intenzione non è quella di offendere, criticare, giudicare qualcuno, anche perché non è assolutamente nella mia natura farlo. Amo il make-up a 360 gradi in tutte le sue forme. Penso che il make-up è una scienza ma è soprattutto un'arte. E come arte non c'è un giusto o uno sbagliato. E per questo il make-up è soggettivo. Quello che posso dirvi è che con questa rubrica quello che voglio fare è passare con voi dei minuti di spensieratezza insieme, creare un format diverso che sia anche un format di intrattenimento con cui divertirci, passare insieme qualche minuto, agliatare la vostra serata, pomeriggio, mattinata. Nel corso del mio percorso come truccatrice ho avuto insegnanti che avevano tecniche totalmente differenti e vedendo che entrambi i risultati erano molto belli, questo mi ha fatto capire, mi ha insegnato che nel make-up non c'è giusto o sbagliato. Nel make-up la cosa giusta è quella che ti porta ad avere il risultato che tu veramente volevi ottenere. E con questo direi di iniziare subito questo video, ma prima di iniziare ti ricordo se vuoi supportarmi, se vuoi vedere altri video di questo tipo, il modo migliore per farlo, è iscriviti al mio canale YouTube, lascia un bel like sotto questo video. Ovviamente se deciderei di entrare a far parte di questa magnifica community, io ti ringrazio tantissimo. E basta, bando alle ciance, iniziamo subito. La protagonista di questo primo episodio di Makeup Artist reagisce a... è Adriana Spink. Per chi non conoscesse Adriana, Adriana Spink è una content creator che qua su YouTube Italia è fra i big perché ha più di 800.000 iscritti e io la seguo da tantissimi anni, da quando faceva i video nella sua cameretta con la sua sorellina. Mi ricordo che ho iniziato a seguirla proprio perché mi è piaciuta tanto la sua spontaneità, la sua genuinità e quindi nel corso degli anni questo mi ha portato a continuare a seguirla. Per questo motivo ho scelto lei come prima protagonista di questa rubrica. Andremo a guardare insieme il suo ultimo tutorial dove Adriana ci spiega come realizzare un eyeliner perfetto in soli 5 step. Forse non capiterà ma io comunque voglio arrivare preparata quindi io lo dico. Ciao Adri nel caso in cui tu stessi guardando questo video ti mando un grosso bacio, spero che questa reaction possa farti tanto piacere. Eccomi qua mi sono messa in una posizione differente perché io guarderò il video sul mio cellulare e a voi lo farò vedere da questa parte. Direi di iniziare subito perché sono molto curiosa. Oggi video molto richiesto su come mettere l'eyeliner, come applicarlo nel migliore dei modi per avere questo effetto di occhio allungato, occhio felino che va molto di moda ultimamente. Inizio col dirvi che la tipologia di eyeliner che io uso praticamente quotidianamente è l'eyeliner in penna. Trovo che sia proprio il più pratico da utilizzare, il più facile quindi anche per chi ha le prime armi consiglio eyeliner in penna. In particolare come sapete uno dei miei eyeliner preferiti di sempre è l'Epic Kink Liner di NYX. Ok allora concordo assolutamente con Adriana nel pensare che gli eyeliner in penna fra gli eyeliner liquidi sono sicuramente quelli più facili da applicare. Soprattutto perché hanno una punta semi rigida e questo ovviamente vi agevola tantissimo nella creazione della codina e nell'applicazione proprio dell'eyeliner anche quando andate a tirare la vostra linea avendo una punta semi rigida è molto più facile ottenere una linea dritta rispetto agli eyeliner col pennellino dove la punta essendo flessibile dovete avere una mano davvero molto molto ferma. Oltretutto l'Epic Kink è anche uno dei miei preferiti l'unica pecca che trovo in quell'eyeliner è il fatto che col passare dei mesi noto che la formula diventi davvero molto liquida e che vada un po' a colare. Quello che aggiungerei a tutto c'è che secondo me per chi si sta proprio approcciando all'eyeliner quindi per chi è proprio agli inizi il mio consiglio è quello di usare gli eyeliner in gel quindi proprio gli eyeliner nel bottino con un pennello d'eyeliner questo perché essendo l'eyeliner in gel sfumabile anche se c'è qualche imperfezione se per caso non andate particolarmente dritte all'inizio della creazione del vostro eyeliner potete sempre andare a sfumare il prodotto a differenza dell'eyeliner liquido che una volta che vada a asciugarsi lì è e lì rimane oppure eventualmente potete anche disegnare il vostro eyeliner prima con una matita, una semplice matita nera per aiutarvi e poi ripassare l'eyeliner con l'eyeliner in penna ok continuiamo vediamo cosa fa la nostra aderiana primo step correttore questo è il Born to Glow Radiant Concealer è un correttore illuminante che vado ad applicare con la sua spugnettina che è praticissima sia sulle palpebra ma anche un po' sotto l'occhio per andare a illuminare quest'area possiamo sfumarlo leggermente sotto l'occhio picchettandolo con le dita oppure con un pennello o una spugnettina vedete già l'occhio è molto molto più luminoso ok adriana utilizza il correttore Born to Glow che è oltretutto uno dei miei preferiti ma l'avete visto utilizzare anche in altri video quello che fa è andare a illuminare la zona del contorno occhi adriana è fortunatissimo perché ha un contorno occhi meraviglioso non ha occhiaie quindi non ha nemmeno bisogno di andare a fare il color correcting se voi avete eventualmente un po' più di occhiaie potete andare a utilizzare un correttore un po' più aranciato e poi andare ad utilizzare un correttore che sia anche di un tono più chiaro della vostra pelle in maniera tale da andare proprio a creare una zona di luminosità e oltretutto pienamente d'accordo con la sua tecnica di sfumare con le dita tamponando o con un pennellino poi prendiamo la palette Ultimate Utopia e andiamo a prendere un marroncino opaco questo qui scarichiamo un po' il prodotto e lo andiamo leggermente ad applicare nella piega palpebrale se volete anche leggermente sotto per dare un pochino più di profondità l'applicazione di un ombretto neutro marrone chiaro lo faccio sempre anch'io quando voglio andare a mettere anche solo l'eyeliner proprio perché noto che dà una profondità all'occhio e quindi mi piace che ci sia questa ombreggiatura se avete un occhio leggermente incappucciato il mio consiglio è quello di non passare l'ombretto nella piega dell'occhio perché poi quando andrete ad aprire l'occhio andrà a svanire completamente la sfumatura quindi dovete andare ad applicarlo appena sopra la piega dell'occhio quindi in questa zona in maniera tale da creare un effetto ottico di palpebra mobile più ampia vediamo come procede prendo la micro brow pencil che da una parte ha lo spazzolino per spazzolare le sopracciglia e dall'altra ha la mina sottile per andare proprio a disegnare i peletti andiamo a fare una bella codina in modo da aprire bene lo sguardo con il correttore pulisco un po' il contorno delle mie sopracciglia e ora vado con il gel control freak a fissarle questo gel si può usare anche da solo se già avete la fortuna di avere le sopracciglia insomma già belle folte lo passate e vi da solo un po' più l'effetto di sopracciglia più ordinate ok le sopracciglia secondo me hanno un ruolo molto importante in un make up quindi non dobbiamo mai trascurarle d'accordissimo sul fatto di utilizzare anche semplicemente un gel fissante se avete delle sopracciglia importanti come le mie qua abbiamo una testimone di sopracciglio importante io ad esempio oggi li ho gestite solo con un gel il mio consiglio per quanto riguarda la codina è di non abbassarla troppo perché altrimenti va a chiudere lo sguardo noi invece vogliamo andare ad avere un effetto liftato quindi i peletti anziché disegnarli verso il basso vi consiglio di disegnarli leggermente in diagonale in maniera tale da dare ancora di più l'effetto ottico di occhio tirato non so se vi è mai capitato di vedere foto di modelle con il foxy high a loro viene proprio tranciato questo pezzo di sopracciglio per poi essere ridisegnato quasi dritto ma noi non ci tranceremo le sopracciglia anche perché poi non ricrescono più neanche se preghiamo i ginocchio sui ceci quindi vi prego non fatelo potete tranquillamente correggere le vostre sopracciglia come faccio io andando a tirare a pettinarli con un gel e poi ridisegnando qualche peletto semplicemente in diagonale momento eyeliner prima cosa da fare è posizionare lo specchio più basso del vostro viso perché dovete guardare in basso per fare meno errori allora sullo specchio io non mi ci trovo bene a guardare verso il basso devo essere sincera e per la creazione dell'eyeliner quello che vi consiglio anzi è di guardare dritte davanti a voi perché in questo modo voi avete un'idea di quello che gli altri vedono quando vi guardano l'occhio deve stare aperto e dovete stare con una espressività quanto più neutra possibile perché se io disegno il mio eyeliner con l'occhio chiuso ovviamente quando poi vado ad aprire l'occhio e a guardare dritto lui assumerà naturalmente un'altra forma perché il nostro occhio ha delle pieghette può essere leggermente asimmetrico quindi per disegnare il vostro eyeliner il mio consiglio personale è quello di provare guardando dritte allo specchio e disegnando alla codina mentre state guardando dritte se proprio siete alle prime armi vi potete aiutare anche con un cartoncino lo posizionate sotto l'occhio e andate a fare la vostra codina ho fatto una linea bella allungata perché oggi vogliamo proprio fare un look felino ora semplicemente andate alla punta della vostra codina e fate come un triangolo cioè dovete praticamente congiungere la vostra codina così ora andiamo a riempire questo triangolino mi sono dimenticata quello che dovevo dire no vabbè raga io ogni tanto veramente mi resetto devo dire che ho apprezzato tanto il fatto che Adriana abbia suggerito di utilizzare un cartoncino devo essere onesta non amo l'applicazione dello scotch proprio perché la zona perioculare è molto sensibile, molto fragile abbiamo dei capillari quindi andare ad applicare uno scotch che poi magari andiamo a strappare non la vedo la soluzione ideale e più delicata quindi un cartoncino va benissimo lo poggiate, lui vi guida e poi semplicemente lo togliete quindi assolutamente pro al cartoncino giustamente poi dalla fine andate a tirare una linea che andrà a creare una sorta di triangolino che poi andrete a riempire continuiamo dobbiamo andare a fare la puntina all'interno dell'occhio se vogliamo proprio questo effetto felino andate leggermente nell'angolo interno ora faccio fatica a parlare mentre lo faccio quindi guardate qua potete quello che è andata a fare è creare un piccolo triangolino anche all'interno dell'occhio io ce l'ho anche oggi disegnato ma è molto più tenue perché ho utilizzato un eyeliner marrone ma vi giuro raga che fare questa cosa vi fa assolutamente una differenza pazzesca nell'occhio vi allunga l'occhio vi dà proprio questo effetto sguardo felino quindi dovremmo aver quasi terminato il nostro eyeliner vediamo come decide di proseguire applico il mascara on the rise lift scara è proprio un mascara effetto lifting per le nostre ciglia piccola interruzione per dirvi che questo mascara è una bomba l'ho utilizzato in un video dove anche io mi sono truccata con i prodotti di NYX e ho fatto un trucco ho replicato un trucco che aveva Lisa Maino e come l'ho provato ho detto what? what? le mie ciglia erano pazzesche cioè potevo riportarle dietro utilizzarle come capelli è allungante volumizzante è veramente un mascara pazzesco se non l'avete mai provato non sapete cosa vi state perdendo lo applico anche sulle ciglia inferiori voilà considerate poi che questo look dà il meglio di sé con le ciglia finte però visto che non esco mi sembra anche diciamo superfluo indossarle perché comunque è un bel look anche senza ciglia finte perché questa mascara è davvero super concordo assolutamente questo look che ha creato è bellissimo anche senza l'applicazione delle ciglia finte ovviamente le ciglia finte danno quel boost in più che non possiamo negare cioè con le ciglia finte siamo tutti un po' più fighi se volete potete anche utilizzare solo la parte finale delle ciglia finte sarebbe l'ideale utilizzarle solo da metà occhio fino alla fine per creare un effetto ancora più foxy per quanto riguarda il mascara io solitamente quando ricerco un effetto ottico allungato non vado mai a truccare la parte inferiore dell'occhio perché a non a truccare la parte inferiore del nostro occhio otticamente va ad aprirsi se volete un effetto super foxy super tirato super liftato il mio consiglio è quello di truccare solo la parte superiore dell'occhio se avete magari un occhio un po' più tondo e volete avere un effetto allungato è meglio truccare solo la parte superiore se invece avete già un occhio foxy di natura e beate voi datecelo un po' anche a noi potete andare a mettere magari un po' di mascara anche nella parte inferiore ma vi consiglierei di farlo solo nelle ciglia finali bene raga questo video volge al termine io spero davvero tanto di avervi tenuto compagnia di avervi fatto divertire di avervi intrattenuto insomma dato che era questo il mio obiettivo fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo esperimento su questo format di makeup artist se questo reagisce a vi è piaciuto se vorreste vedere altri episodi io ovviamente risponderò a tutti i vostri commenti io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati alla conclusione di questo video e vi ricordo che il modo migliore per supportarmi è iscrivervi al mio canale youtube lasciare un bel like sotto questo video e mi raccomando non dimenticatevi di venire a seguirmi anche su instagram dove mi trovate come Ambra Jess Makeup io per il momento vi saluto e vi mando un grosso grossissimo bacio e vi aspetto nel prossimo video see you soon